E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Il dottor Oddo ha trovato la cura per l'Udinese. Grazie al cambio di allenatore la squadra bianconera sta vivendo un autentico golden moment. Prima di tutto per i risultati, due vittorie consecutive con Benevento e Crotone che hanno allontanato l'Udinese dalla zona pericolosa della classifica. Quando Oddo è arrivato in Friuli i punti erano 12. Il vantaggio sul terz'ultimo posto era soltanto di un punto. Oggi i punti in più della spalla sono 7 e quelli in classifica 18. Ma la cura del dottor Oddo non è fatta soltanto di risultati, bensì di altri due fattori legati fra loro, il 3-5-2 e la solidità difensiva. Soltanto un gol subito nelle ultime tre partite, sul rigore, porta inviolata in due gare su tre. Merito del nuovo modulo che consente una copertura migliore alla difesa e l'atto a spaccio ai centrocampisti negli inserimenti. Una possibilità che esalta le qualità di Janto, del cutivo a Crotone e di Barak. L'ultima scoperta della famiglia Pozzo che contro il Benevento ha regalato un gol in terzo in campionato e un assist a Kevin Lasagna. È così che il paciente Oddo è guarito e grazie alle cure del dottor Massimo Otto sembra aver iniziato tutto un altro campionato. Grazie a tutti!